buongiorno a tutti questa è la seconda parte del video tutorial sul t45 go show che nella prima parte ci siamo occupati della descrizione dei comandi di volo la strumentazione di bordo il cockpit in generale e la procedura di avviamento un circuito intorno all'aeroporto quindi decollo atterraggio e spegnimento dell'aeroplano in questa seconda parte ci occuperemo invece della navigazione navigazione tacan ils e la navigazione a mezzo di waypoint con coordinate gps ins saliamo a bordo eccoci a bordo ho volutamente scelto una condizione meteorologica di nuvolosa in modo da indurre la situazione per cui noi vogliamo navigare con gli strumenti che è proprio l'oggetto di questa nostra missione per prima cosa mettere in pausa io ho inserito per il nostro velivolo quattro punti di navigazione punto numero uno numero due e il numero tre sull'aeroporto in questo velivolo al momento non è possibile inserire dei punti di navigazione a mano utilizzando l'avionica dell'aeroplano e quindi solamente è possibile inserire un piano di volo al momento della creazione della missione torniamo a bordo dell'aeroplano saliamo sopra le nuvole scegliamo sul display di sinistra adi e sul display di destra hsi vi farò vedere ora che si possono visualizzare questi tre punti di navigazione sul nostro display scegliamo waypoint 1 waypoint togliamo course quindi scegliamo waypoint waypoint 1 ecco qua il nostro waypoint 1 se vado ad aumentare la scala potrete vedere il waypoint 1 il waypoint 2 e il waypoint 3 se ne può vedere solo uno per volta ecco il waypoint 1 che è di fronte a noi sul nostro eccolo qua vedete questo trattino quello è la prua magnetica per andare al waypoint 1 se viro a destra e porto il mio triangolino che è la mia rotta magnetica esattamente coincidente con il trattino verde a questo punto sto volando direttamente al mio waypoint qui dovremmo avere la distanza 273 questo è il vento velocità ecco 0 53 la prua per andare al waypoint 3 miglia 30 secondi di volo se seleziono waypoint 2 cambia per andare al waypoint 2 abbiamo il waypoint 2 è qua lo vedete qui 0 89 27 miglia e qui il trattino è fuori scala quindi sì io viro a destra pian piano verrà verso di noi waypoint 2 25 miglia lo vedete anche qua sulle ad app display poi possiamo passare la navigazione takan per fare questa cosa cerchiamo un takan qui nei paraggi stabilizziamo l'aeroplano f10 andiamo a vedere che qui sull'aeroporto alminad dovremmo avere un takan vediamo un po takan 99 x ray perfetto allora takan on ecco qua il nostro takan per quindi per andare al takan sono 15 miglia prua 0 95 anzi la prua è questa 175 questo è sempre il waypoint 2 possiamo anche mettere un course possiamo anche andare in modalità cdi vediamo se faccio 180 eccolo qua allora la mia prua è questa per andare al takan qui posso selezionare una rotta preimpostata per andare direttamente al takan per esempio se io volessi atterrare sulla pista 27 io dovrei mettere course 270 quindi course 2 70 enter praticamente quando intercetto questa radiale sarò in bound con 270 ora mettiamo 0 90 che è anche meglio quindi facciamo course 0 9 0 enter e quando intercetto questa radiale starò andando per la pista 0 90 visto che il takan è qua dovrei volare in questa direzione e poi fare così perché 0 9 0 voglio essere in questa zona qua per poter atterrare facciamo una prova adesso accelero anche i tempi di volo vediamo un po mi porto dall'altra parte della stazione takan allora mi trovo quante miglia 12 miglia dovrebbe essere 3.000 piedi sono a 23.000 quindi scendiamo giù in picchiata fuori gli aerofreni eccomi allineato sono a 10 miglia vorrei essere a 3.000 piedi sono a 7.000 devo scendere a meno di 3.000 piedi ora sono perfettamente allineato 8 16 24 ora sono addirittura basso posso livellare quindi sono a 7 miglia e 6 7.500 a 7 miglia vuole essere a 2.100 piedi quindi posso stare livellato e in effetti guardate davanti a me cosa c'è la pista di atterraggio posizione perfetta per atterrare ecco come posso utilizzare il takan con una copertura totale di nubi e ora parliamo dell'ils allora l'ils abbiamo qui per la pista 20 0 9 117 quindi possiamo fare takan off 117 ok vedete che abbiamo già l'indicazione del localizzatore ora siamo vicini alla pista quindi dobbiamo allontanarci eccoci nuovamente eccoci nuovamente e vedete che qua abbiamo l'ils indicazione di glide e indicazione di localizzatore vedete lock glide che compaiono anche qui dove questo è glide eccoci qua siamo perfettamente lock glide mantenendo quelle due barre al centro del nostro flat set vector che è questo cerchiolino con le tre alette giù una tacca di flap giù il carrello questa indicazione ci porterà all'atterraggio esatto seconda tacca di flap controlliamo carrello giù tre verdi flap full speed break retratti ok 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 ora ok vedete che il glide e il lock ora sono perfetti la velocità è anche perfetta e così eseguiamo un ILS perfetto e ci fermiamo qui in centro pista mettiamo freno di parcheggio quindi ricapitoando non è possibile inserire waypoint nella avionica di bordo ma inseriti waypoint a livello di creazione di missione poi indicando waypoint 1,2 eccetera eccetera in modalità plan e togliendo course vedremo qui i nostri waypoint con questo pulsante si cambia la scala vedete waypoint 1, waypoint 2 mettiamo una scala più piccola waypoint 3 e poi non ce n'è un altro waypoint 3 era sull'aeroporto ovviamente e questa è la direzione del waypoint e qui abbiamo la distanza waypoint 1 19.5 miglia poi abbiamo l'attacchettina qui in alto avremo l'attacchettina qui in alto che ci dice da che parte andare poi abbiamo la navigazione TACAN scegliendo TACAN lì e CDI possiamo anche inserire un course per andare sul TACAN in una direzione prescelta e qui abbiamo poi e poi abbiamo la modalità ILS scegliendo qui ILS e inserendo la frequenza dell'ILS in questo pannello ovviamente per utilizzare il TACAN dobbiamo avere attivato il TACAN se non ci da indicazioni bene questo per la missione di navigazione è tutto spero di non essere andato troppo veloce se sono ancora necessarie delle delucidazioni potete lasciare un commento al video se ho dimenticato qualcosa fatemelo pure notare nessun problema il prossimo video invece sarà sulle operazioni navali quindi decollo e appontaggio sulla porta aerei ciao e alla prossima ciao ciao